Musica Beh, prima azione grandiosa qui in Calabria della Giunta Nazionale dell'UMPLI La Giunta regionale è stata felicissima di aver proposto insieme con la Prologo di Curinga e con tutti coloro i quali lavorano giornalmente per evidenziare e mettere in rilievo i territori più belli Diciamo che la Calabria è tutta bella, però permettetemi di dire che poi ci sono delle eccellenze Ecco, oggi stiamo parlando di un'eccellenza che è quella del Platano che chiaramente è arrivata a seconda in Europa Per arrivare a seconda in Europa permettetemi di dire che chiaramente non è stata una cosa da tutti E prima in Italia Allora, se questo è vero come è vero, perché sono queste le testimonianze che noi vogliamo della Calabria Noi dobbiamo portare avanti sempre un discorso in positività dei nostri territori Perché dobbiamo cancellare, attraverso anche i media che sono responsabili Dobbiamo cancellare quelle visioni di una Calabria che è sempre colpita da altri fatti luttuosi in nero, eccetera Noi dobbiamo assolutamente mettere in risalto questa Calabria Sono queste le cose che noi vogliamo in prima pagina E se tutti quanti continueremo a lavorare remando dalla stessa parte Io dico che questa Calabria ce la farà e saremo tutti insieme, una volta per tutte Ad avere una regione prima tra tutte le regioni d'Italia Grazie 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 Grazie